La forma di racconto è abbastanza anomala rispetto alle reti che si sono impegnate in questo tipo di racconto e non possiamo ringraziare di questa spinta innovativa. Un uomo normale? Sì, in effetti Mattarella per alcuni versi era un uomo normale, per altri assolutamente no. Se c'è una cosa che mi ha colpito è stato, essendo lui molto giovane quando è caduto, molto giovane quando ha cominciato la sua esperienza politica, è stato egli stesso un formatore di giovani e questo non è facile, non è scontato. Una delle cose che più mi ha colpito del percorso di Mattarella è quello di mettere insieme un gruppo di giovani che oggi diremmo provenire dalla società civile che venivano dall'università, dalle banche, da lavoro sul campo e fargli pensare la politica in un modo diverso. Questa a me personalmente mi ha colpito molto. Se pensiamo che quel gruppo di giovani è parte della classe dirigente di questo paese capiamo che questa è un'eredità non da poco che ci nasce.